Aina, sbaglia tutto, dà la possibilità alla Napoli... A Bui, Usoi! Se sembra che ne ne haffa da... OOOOOOOH! Tu c'è scossa tu, ATS! Dai a bascia, quello di un po' Non vado a te la fai! Ancelotti 1-2... Piotrini, schifo! Eeeh, vanno a giambare per i broni! Sta cascendo la... Vendo fuori la squadra di Ancelotti... Dove? Terzo pallone, giocato in aria... In 5 minuti circa... Terzo pericolo così... Altra palla regolarata... In solito... C'è il punto di insegna... C'è il punto di insegna... Che? Grande chance, la migliore... Questa posizione... Si allunga però il pallone... Non riesce più a dare precisione... 30.000 all'ora, stoppato la palla anche bene... C'è il punto di insegna... Cooperare... Non male... Chi ha mai capito la difensiva... Il giocatore in pratica della luce... Alle gante e le spalle... Nel senso che poi regge... Regge fisicamente anche... Anche quanto fa... Ma com'è entra la voce, Giuseppe? Ma tu devi la voce... Mietta la voce... Ma vorrei... Ma non c'è io... Ma se no... Ma non c'è io... Ma tu doveva la voce... Non c'è bello... Ma non c'è di notte... Mietta la bucchina... Mietta la voce... Brasiliano... Allan la gioca al limite... Ci prova ancora Fabian Ruiz... Si distende Sirio... L'AVM! Per Fabian Ruiz... Questa la porta... Per Cali 2... Culibali... Per Cali 2... Culibali... CIO! Milano... CIO! Il maramma di... Ti ricordi... Primo Culibali... E poi Moretti... Adesso nel giro di... Umi... Però dal... Intervento di Izzo... Che sta giocando una... Buona partita di grande attenzione... E' il giocatore... E' il giocatore... E' il giocatore... E' il giocatore... Delle energie... Ricordiamo che Napoli... Si... Ha avuto una partita... Subito in discesa... Contro Zurico... Per un giocatore... Tre giorni fa... Praticamente con le stesse domini... Avogna... Fallo di... Vaselli... Ha penetrato... Non so che Culibali... Voleva battere... Velocemente... Verdi per Milic... Attenzione anche a Malcui... Che arriva... Ma Milic sceglie le opzioni... Insigne che tira giù... Ha perso... Ha perso... Passo... E si era perso... Insigne... Napoli non è... Fortunato... Mertens... Tornato... Alla grande... Con la sua velocità... Olaina... E torna... E torna... Il tor... Mertens che sceglie... Verdi... Tiro... I 4 migliori... E... I... 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 Fischio... Finale... 0 a 0... Napoli e Torino... Non subiscono gol... Per la quarta partita... Consecutiva... Certamente... Un po' di delusione... Per un Napoli... Che non riesce a segnare... Ancelo... Ha costruito tanto... Soprattutto... Ancelo... La squadra di... Walter Mazzari... Soprattutto...